Confisca record all'Andrangheta in Calabria, da oggi diventano patrimonio dello Stato oltre 212 milioni di euro appartenuti a un imprenditore locale. Oltre 212 milioni di euro che da oggi diventano proprietà dello Stato. A tanto, infatti, ammonta la confisca del patrimonio di Salvatore Gallo, 64 anni, imprenditore di Reggio Calabria che, secondo gli investigatori, sarebbe stato vicino alle potenti cosche Piromalli di Gioia Tauro e Zagari Fazzalari di Taurianova, operanti anche nel mandamento tirrenico dell'Andrangheta Regina. Definito dai collaboratori di giustizia e il miliardario Elbitume, Gallo era riuscito negli anni a creare un comitato d'affari composto da esponenti dell'Andrangheta, uomini della pubblica amministrazione e faccendieri, che gli avrebbe consentito di accaparrarsi decine di opere pubbliche non solo in Calabria, ma in molte regioni italiane. Il coinvolgimento dell'imprenditore nella Commissione Reati di Natura Economico-Finanziaria era già emerso in diverse inchieste condotte dalle procure antimafie di tutta la Calabria. Per anni i militari e la finanza di Reggio Calabria e gli specialisti dello sciico delle Fiamme Gialle hanno indagato sul suo patrimonio e sugli innumerevoli beni che aveva accumulato, molti dei quali intestati a prestanome o a società fittizi. Significativa era apparsa da subito la sproporzione fra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato. Il provvedimento di oggi, richiesto dalla Procura Antimafie Reggio Calabria, prevede anche la misura e la sorveglianza speciale IPS per cinque anni.